La tecnica adottata è da mesi ormai sempre la stessa. Sbarrare la strada ai mezzi degli ambulanti diretti nei mercati rionali e derubarli di tutto il loro carico, in alcuni casi anche di portafogli e telefoni cellulari. Lo stesso è quasi sempre il teatro di questi assalti. La provinciale, che collega Corato e Altamura, che alla luce delle tante rapine registrate, si è guadagnata il titolo, per nulla rassicurante, di strada del terrore. E gli episodi di questo genere, infatti, ormai non si contano più. L'ultimo risale al 4 aprile scorso, vittime tre commercianti andriesi bloccati e derubati del loro furgone e della merce, mentre erano in viaggio in direzione Matera. L'ennesima azione criminosa compiuta su una delle arterie stradali più trafficate del territorio e che fa crescere il livello di allarme tra gli ambulanti. Solidarietà nei loro confronti è stata espressa dalle associazioni di categoria come Casambulanti o un'impresa, che in un comunicato stampa sottolineano come il fenomeno, da considerarsi a questo punto una vera e propria emergenza, stia progressivamente alimentando il senso di paura tra i commercianti, rendendo necessari interventi istituzionali per garantire maggiore sicurezza. A preoccupare, tra le altre cose, è la frequenza con cui si stanno registrando questi episodi. L'assalto di mercoledì scorso arriva infatti a pochi mesi di distanza da un'altra rapina ai danni di un'ambulante andriese, commessa a fine dicembre, nello stesso tratto di strada. L'uomo, diretto a Gravina in Puglia, venne bloccato da due banditi a volto coperto all'altezza dell'incrocio per Poggiorsini e, dietro la minaccia delle pistole, costretto a consegnare il suo furgone Iveco Deili, carico di capi di vestiario. Le indagini condotte dai carabinieri portarono a ritrovamento in un fondo agricolo delle attrezzature per il montaggio delle bancarelle di vendita, ma del mezzo, della merce e tantomeno dei rapinatori nessuna traccia.